bella ragazzi per trovare il mio canale siamo sempre qui siamo nella casa in cui c'è una popisa dove mi farò e poi la mia casa mia non casa mia dove abito casa mia su minecraft il tutorial qua su allora sopra c'è un grandissimo bar ok tumori sinistri sento i mancini di potino chiudiamo qui c'è una stanza per il volo e si sale porca trota no non c'era nulla è perso qui c'è la stanza per il volo qui c'è la swimming pool che si può andare e sotto l'occhino qui c'è una leva che non fa niente che non sono via il sac service in una stanza e c'è l'atteria e dietro c'è un posto segreto dietro c'è un diamante un blocco diamante con sotto una cesta ragazzi ok qui c'è la living room una cesta biscotti casse eh 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 voglio mangiare quella è la cucina c'è un'ispiration ci si può sedere a bere un bel tè ok basta guardate guardate la camera guardate la camera questo trucco me l'ha insegnato questo trucco me l'ha insegnato andatevi a visitare il suo canale che si chiama cercio quattro occhi anche se non è che me l'ha insegnata però ve l'ho fatta vedere mi l'ha insegnata insegnata con una parola grossa io adesso vi porto una camera mia questa è una camera mia? no, degli ospiti sono gli andermani qui c'è un'altra camera dopo ve la faccio vedere si dorme qui dietro qui c'è una porta una porta una porta e troll allora l'home of no requirement non sono molto bravo in inglese cioè sono bravo però non sono ancora questi cosi non sono molto bravo in inglese ma non sono molto bravo in inglese ma non sono molto bravo in inglese non è qualcosa la camera mia io ho un'altra camera come avete già visto sono due inglesi ecco qua qui ci sono tutti i materiali qui però l'unica cosa qui è che nascono tanti mob e quindi qui ci sono tutte le altre solo che la cosa brutta è che sono tutte messe uno ad uno qui la stanza dei lavori ovviamente ovviamente c'è la qui c'è la stanza di chi ha creato questa casa davvero in tanti armati di scope e bastoni vedete che una casa con questi qua con le scope e i bastoni non sapete queste cose siete proprio ignoranti pure si devono cattare ah no c'è i creeper guarda che ha fatto qua cosa fa un bene guarda qua ma si è nascosso il bastardo qui c'è un'altra roba che lo si andasse mushroom sugar spalle di roba si fa risultare la vita cazzo questa casa sta diventando un batufferino allora adesso ok invece di fare il cantante lirico posso saltare che roba ovviamente che ci può essere giobba qui c'è una porta che porta una porta che porta capito il gioco delle parole ok basta no mi ha ammazzato qui non si può fare la cacca oh fatta ok ok se ne andiamo niente su qua ah l'ho che si è aperto ah quello non è fatto ecco fatto adesso verremo trasportati qua io lo lasciamo ok ragazzi si è aperto questa casa non è piccola porca la trota luggia no ultima non sei minuti di video ciao 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 Grazie a tutti